E' crisi nera per il turismo sulla montagna pistoiese, una crisi che se agosto confermerà i dati del mese di luglio e rischia di avere esiti drammatici per questa zona della provincia. Sostenerlo è l'agambiente pistoia per cui quello che sta avvenendo non può essere letto solo alla luce della situazione generale dell'economia. Per luglio c'è stato dei dati assolutamente drammatici, un calo tremendo rispetto all'anno scorso che era già un anno di crisi. Veniamo circa da 5 anni di turismo e un continuo calo. E' una situazione molto preoccupante, noi pensiamo che tutto il sistema della montagna sia vicino veramente al collasso perché il turismo è l'indotto fondamentale che porta un po' di economia in montagna. Tutto il resto è rimasto veramente molto marginale e comunque è vincolato e legato all'affluenza dei turisti. Molti fattori che incidono sulla situazione che si sta verificando sulla montagna pistoiese, per i quali il principale è individuato dall'Associazione Ambientalista nei problemi legati alla promozione del territorio. Questo calo di turismo sicuramente è per una crisi generale, questo è evidente a livello nazionale, ma è anche per un discorso di una mancata promozione. Probabilmente non è stato mai fatto un buon marchio della montagna pistoiese o di pistoia collegata con la montagna e non è stata fatta probabilmente una buona strategia di area, una buona pubblicità. A gravare il quadro la chiusura per lavori della linea ferroviaria Porrettana in un periodo cruciale per il settore turistico della zona. Stanno facendo dei lavori sulla linea, noi pensiamo che sia un buon segno che vengono fatti dei lavori sulla linea, quindi una volontà di tenerla, di investirci e di tenerla in una buona funzionalità. Magari andava scelto e concordato col territorio quale poteva essere il periodo più adatto, questo sì, perché adesso si vanno a danneggiare i turisti che per noi sono l'ossigeno.